Nei decorsi mesi, in virtù dell'emergenza pandemica da Covid-19, è stata avviata un'accurata e capillare attività info-investigativa finalizzata ad ottenere un quadro esaustivo circa le modalità di distribuzione dei cosiddetti boni spesa. In virtù di tale ordinanza è stata demandata agli uffici competenti di ciascun comune l'individuazione dei soggetti beneficiari e le modalità di assegnazione e l'importo del relativo contributo. L'attività investigativa avviata dalla locale Digos ha riguardato il comune capoluogo che risulta aver ricevuto dal Governo un fondo dell'ammontale complessivo pari a 574.596 euro con il quale sono stati erogati complessivamente boni spesa con importi di natura differente per circa 1.316 beneficiari in riferimento ai quali è stato possibile riscontrare alcune irregolarità. È emerso infatti che alcuni soggetti fruitori dei boni spesa non risultavano avere requisiti espressamente richiesti dal bando che tra gli altri prevedeva come condizioni indifettibili per la fruizione del sostegno la residenza nel comune di Crotone e la possibilità di presentare una sola domanda per ciascun familiare. All'esito della complessiva attività accertativa esperita dalla Digos si è evidenziato la falsità di quanto indicato nelle autocertificazioni prodotte da alcuni beneficiari a corredo delle relative istanze presentate. In ragione di questo sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Crotone 17 soggetti, tutti responsabili di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.